Sono in arrivo alcune novità contenute nel provvedimento firmato dal direttore dell'Agenzia delle Entrate che consentirà a chi è titolare di crediti da superbonus, sisma bonus e bonus barriere architettoniche di ripartire in dieci anni crediti non ancora utilizzati per i quali è stata comunicata la prima opzione entro lo scorso 31 marzo. Per farlo basterà utilizzare una nuova funzionalità disponibile dal prossimo 2 maggio nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate. Inoltre la comunicazione potrà riguardare anche solo una parte della rata del credito disponibile. Con successive comunicazioni potranno essere infatti reteizzati sia la restante parte della rata sia eventuali altri crediti acquisiti nel frattempo. La novità si applica ai crediti di imposta relativa a interventi agevolati con superbonus, sisma bonus e bonus barriere architettoniche derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto in fattura comunicate all'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo di quest'anno. Il provvedimento precisa che la quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti di imposta, anche acquisita a seguito di gestioni successiva alla prima opzione e non utilizzata in compensazione, può essere ripartita in dieci rate annuali di importo uguale. I fornitori e i cessionari potranno comunicare all'Agenzia la volontà di optare per la raetizzazione lunga al posto di quella originariamente prevista semplicemente accedendo all'area riservata del sito dell'Agenzia, dove dal 2 maggio 2023 sarà attiva una nuova funzionalità all'interno della piattaforma cessione crediti. Dal 3 luglio di quest'anno il servizio sarà attivo anche per gli intermediari provvisti di delega alla consultazione del cassetto fiscale dei titolari dei crediti. La comunicazione può riguardare anche solo una parte della rata del credito al momento disponibile. Con successive comunicazioni potranno essere infatti rateizzati, così come ricordato dalla stessa Agenzia delle Entrate, anche in più soluzioni la restante parte della rata e gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti.